Gli edifici in cui viviamo, lavoriamo, studiamo e facciamo altre attività quotidiane sono costruiti con diversi materiali, chiamati materiali da costruzione. I materiali impiegati nelle edilizie e nelle grandi opere di ingegneria come strade, ponti, gallerie sono le pietre naturali, i materiali artificiali, i materiali leganti e altri materiali come il legno, i metalli e i materiali sintetici. Le pietre naturali comprendono vari tipi di rocce che possono essere classificate in base alla loro origine. Le pietre naturali hanno costituito per lungo tempo il materiale fondamentale nelle costruzioni. Oggi invece sono utilizzate quasi unicamente per i rivestimenti e le pavimentazioni. I materiali artificiali impiegati nelle costruzioni sono i laterizzi, i prodotti ceramici e il vetro. Con il termine laterizzi si intendono essenzialmente i mattoni e le tegole ottenuti tramite cottura dell'argilla comune. I prodotti ceramici sono ottenuti dalla lavorazione di materie plastiche naturali come l'argilla e il caolino. Queste vengono unite ad altri materiali e impastate con acqua. Viene poi data loro una forma. Infine vengono cotte. Le ceramiche sono utilizzate per la produzione di una grande varietà di oggetti come vase lame, tegami, tubi, lavandini e piastrelle, fino agli oggetti artistici. Il vetro è un materiale trasparente, impermeabile, resistente a molte sostanze chimiche ed è un isolante elettrico. Inoltre può essere sagomato facilmente, caratteristica che lo rende utile nella fabbricazione di moltissimi prodotti. E' possibile classificare i tipi di vetro in base al loro impiego. Tra i tanti tipi di vetro resistenti possiamo ricordare, ad esempio, il vetro Pyrex, resistente al calore e usato anche per cuocere i cibi. Il vetro smerigliato, ottenuto con getti di prodotti abrasivi sulla superficie del vetro. I vetri isolanti, che garantiscono l'isolamento termico e acustico. La prima fase della produzione del vetro è la miscela della materia prima, la silice, che viene mescolata con altre materie prime, come soda, calce e ossidi. Il materiale è poi portato a fusione in particolari forni. Si passa quindi alla formatura, che dipende dai prodotti che si devono ottenere. Per ottenere il vetro cavo, impiegato ad esempio per le bottiglie, si utilizzano macchine automatiche, che si occupano del processo di soffiatura. Per ottenere il vetro piano, impiegato per le finestre, si utilizza invece il metodo detto Float Glass, cioè vetro galleggiante. I leganti da costruzione sono materiali che, impastati con acqua e sabbia, formano masse semifluide, le malte, impiegate per legare tra loro materiali da costruzione. I materiali leganti sono il gesso, la calce aerea, la calce idraulica, il cemento, che viene sempre utilizzato, aggregato con altri materiali. A seconda dei materiali impiegati può formare la malta cementizia, il calcestruzzo o beton, il cemento armato, che incorpora e avvolge un'armatura metallica costituita da tondini di acciaio dolce.